Ciao a tutti cari ascoltatori METO e bentrovati in questo nuovo video. Oggi andrò a fare le previsioni per i prossimi tre giorni, cioè quindi per il 31 di agosto, l'1 e il 2 di settembre. Ma prima di continuare con il video, mi invito ad iscrivervi al canale, lasciando mi piace e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Per voi un piccolo gesto, ma per noi conta tantissimo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a un numero molto più grande di iscritti e una singola iscrizione può aiutarci molto a crescere. Ti ringrazio dell'iscrizione e andiamo subito a vedere come sarà la situazione. Ma andiamo a vedere come è adesso la situazione sull'Italia, perché come possiamo vedere l'Italia è proprio uscita da una fase di maltempo molto acuto, che l'ha interessata nei scorsi giorni. In questo momento il minimo depressionario si trova tra il Veneto e il Friuli e già in questo momento si sta spostando verso i Balcani. L'Italia, tra poche ore, sarà quasi libera dal maltempo, ma attenzione, perché non essendoci nell'alta pressione e nella bassa pressione, rimarrà in un campo di instabilità che potrebbe andare a portare precipitazioni anche localmente intense a partire già dalla giornata di domani. E infatti andiamo subito a vedere la previsione per il 31 di agosto. Eccoci qua, qua possiamo vedere in generale la giornata del 31. Instabilità che si trova un po' in quasi tutta Italia. Io direi che il sole splenderà in maniera limpida, soprattutto sul nord-ovest. Attenzione perché lungo le coste Liguri e della media alta Toscana, durante il pomeriggio, si potrebbe andare a creare un po' di nuvolosità e localmente anche qualche isolato piovasco. Instabilità che si troverà anche lungo le coste della bassa Campania e dell'Ata Calabria. Precipitazioni che localmente potrebbero essere anche intense sulla zona sul settore alpino e prealpino del Trentino e del Veneto. Temperature in lieve aumento con massime che andranno in tutta Italia tra i 25 e i 30 gradi. Localmente però le minime potrebbero farsi anche molto molto basse. Infatti sulla pianura padana attendiamo anche in alcune località minime intorno ai 13-14 gradi. Per quanto riguarda invece le nostre due isole maggiori, quale temperature saranno abbastanza più alte rispetto al resto d'Italia. Con minime che andranno tra i 17 e i 23 gradi e massime che andranno tra i 29 e i 31 gradi. Questo per quanto riguarda la giornata del 31. Perché adesso andiamo a vedere la giornata dell'1 di settembre e come si aprirà il mese di settembre. Eccoci qua. Qua come possiamo vedere ancora una piccola fase di instabilità soprattutto sul nord. Per quanto riguarda invece il centro e sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche possibile passaggio nuvoloso solamente sulle aree interne. Per quanto riguarda invece il nord, giornata che si aprirà all'insegna del tempo soleggiato ma che durante la mattinata e il pomeriggio potrebbe andare a far vedere qualche locale piovasco nelle aree interne. Possibile anche sulle coste dell'esempio della media alta toscana e poi anche vicino al confine con la Francia nella parte ligure. Inestabilità che localmente potrebbe diventare anche qualche isolato temporale sul Veneto. Temperature che rimarranno stazionare o in alcune località inizieranno pian piano a risalire. Minime invece queste qui totalmente stazionare e in alcune località anche lieve diminuzione. Invece andiamo a vedere per quanto riguarda proprio la giornata di sabato. Sabato 2 settembre. Come possiamo vedere da queste immagini il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutta l'Italia. Anche l'instabilità inizierà sempre di più a diminuire. Qualche possibile piovasco sulla pianura padana dell'Emilia Romagna come si può vedere vicino alle coste. Qualche possibile passaggio nuvoloso soprattutto sul Piemonte e anche sulla Sardegna. Per quanto riguarda invece le temperature, temperature che rimarranno ancora una volta stazionare. Forse lieve diminuzione soprattutto sull'estremo sud e minime che rimarranno anche qui stazionare o lieve aumento. Questa è la previsione per i prossimi tre giorni. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento medio.